Guardacino Antonino, però la prima persona è il Cargiulo Natale, la prima persona è il Cargiulo Natale, poi Guardacino Antonino e poi altre che sono, che continuano, che se non giustiamo noi il popolo non è tanto complesso. Ma praticamente avete fatto questi quadri tutti con fiori piani, tutti a mano, c'è un ragazzo che lo disegna e poi le signorine che lo attacca. Quanto tempo ci è voluto? Due giorni, non hanno stato più. Di questi di loro, perché tutto con la colla. Pensavo di più, pensavo di più tempo. No, 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 chi non mette la mano, non c'era una prima e poi a quando non ho visto. Complimenti. Grazie a voi e questa è la tradizione dai nostri genitori, dai nonni, chi sa che sapesse, e tra i fratelli e i fratelli che abitavano qua e altri che abitavano qua l'altro giorno, ci abitavano ammazzati perché è chi faceva il più bello. E una settimana prima, i fratelli e i fratelli non c'erano da mano. Ma chi è bello? Ma ora più o meno ci sono un po' più adeguato. Sono due sono? Sono due, prima erano tre. Ah, erano tre? Sì, sì. E quando erano fatti? La mattina erano fatti. Io non mi ricordo. Sì, sì. E il terzo dov'è stato? Il terzo dov'è stato? Stato da sopra, più sopra, non so chi è venuto la posizione dell'alcola, non so. Ma caro, non so di sopra. Di somma, non so di sopra. Stato in quella che ci scappano. Non capito. Va bene, grazie. Grazie a voi.